E' stata in assoluto la festa più noiosa a cui sono stato negli ultimi 25 anni. Ogni volta che vado a uno di questi eventi mi chiedo ma cosa diavolo ci faccio qui? Odio i cocktail party e tutti quei chiacchieroni che ci vanno. E' un'occasione per incontrare quelli che ammirano il tuo lavoro. Sì, 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 a nessuno frega niente dell'arte. Mi interessa solo sapere quanti soldi ci potranno fare. Ma andiamo, facciamoci un drink. Tutta questa eccitazione mi ha fatto venire sete. Scotch liscio, giusto? Assolutamente. Ok, ma sai cosa direbbe il dottore? Sì, beh, può baciarmi il culo. Sono abbastanza vecchio da scegliere le mie medicine. Hai lasciato la luce dello studio accesa? No, no, sono sicuro di aver... Chiama la polizia. Polizia di Detroit, posso aiutarla? Parla all'androide di Carl Manfred, 8941, Lafayette Avenue. Siamo rientrati a casa e le luci sono accese. Possibile intrusione. Una pattuglia è in arrivo. Andiamo a controllare. Marcus, no, vengo con te. Leo. Guarda chi c'è, il pupazzetto di mio padre. Leo. Cosa succede? Rifiuti di aiutarmi, mi aiuto da me. È assurdo quanto paghino questa merda. Non toccarli. Senti, tanto prima o poi diventeranno miei comunque. Considerano un piccolo anticipo sulla mia eredità. Marcus, fallo allontanare da lì. Mandalo via. Leo, non complicare le cose. Ascolta tuo padre. Vattene via. Ora. Mi dici sempre e solo di andarmene. Che c'è, pa? Non valgo niente. Non sono perfetto come questo cazzo di appare. Adesso basta, fuori! Adesso, forza! Ma poi cos'ha di così speciale, eh? Cos'ha che io non ho? Lascialo stare! Dai, vediamo che sai fare! Marcus, non difenderti, hai capito? Non fare niente. Dai, che aspetti colpiscimi? Vuoi essere un uomo? Dimostramelo! Smettila! Qual è il problema? Sei forse una fighetta? Smettila, Leo! Basta! Troppo paura per reagire, brutta puttanetta! Oh, giusto, scusa, mi dimenticavo. Non sei una persona, sei solo un fottuto pezzo di plastica! Leo, lascialo stare! Ti distruggerò e resteremo solo io e mio padre. Ti farò pezzi e nessuno pregherà un cazzo e... Leo, oh mio Dio! Leo! E il mio bambino... Carla, io... Te distruggeranno, Marcus! Devi andare! Vattene via! Vattene! Ora! Via! Marcus! Fermo dove sei! Perché l'hai ucciso? Che è successo prima del coltello? Eri lassù da molto? Perché non sei scappato? Per la miseria di qualcosa! Fa' un culo io mollo! Interrogare una macchina è uno spreco di tempo, non si ottiene nulla! Potremmo sempre usare le maniere forti, dopo tutto non è umano. Gli androidi non sentono dolore, lo danneggeresti così, poi non parlerebbe più. I devianti sono inclini all'autodistruzione se si trovano in caso di stress. Ok, cervellone. Cosa dovremmo fare? Potrei interrogarlo io. Cosa abbiamo da perdere? Prego, il suo spettato è tuo. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sei danneggiato? È il tuo padrone? Ti ha picchiato? È da quando ti hanno arrestato che non parli. Se non collabori, useranno le maniere forti. È questo che vuoi? Non sembra che tu capisca la situazione. Hai ucciso un umano. Ti ridurranno in pezzi se non dici cos'è successo. Ascolta, sono dalla tua parte. Voglio solo aiutarti. Ma non posso fare niente se non parli con me. Cosa? Cosa mi faranno? Mi distruggeranno, vero? Verrai smontato e vorranno capire i problemi ai tuoi biocomponenti. Non possono fare altro se vogliono capire che è successo. Perché gli hai detto che mi hai trovato? Perché non mi hai lasciato là e basta? Sono programmato per braccare devianti come te. Ho solamente fatto il mio dovere. Non voglio morire. Allora parlami. Io... Non posso... Sei una macchina progettata per obbedire. Obedisci! Dimmi cos'è successo! Ok, bene. Non parlare. Me ne importa forse qualcosa? Voglio dire, hanno accusato medio omicidio. Eh? Se confessi, io posso proteggerti. Ti prometto che non ti verrà fatto alcun male. Mi torturava ogni giorno. Facevo tutto quello che diceva, ma... C'era sempre qualcosa di sbagliato. Poi un giorno... Ha preso una mazza e ha cominciato a colpirmi. Per la prima volta ho avuto... Paura. Paura che mi distruggesse. Paura di morire. Così ho... Preso il coltello e l'ho pugnalato in pancia. Mi sentivo meglio. Così l'ho pugnalato ancora... E ancora... Finché è crollato. C'era sangue ovunque. C'era sangue ovunque. Che si sbagliava. R.A. 9. Era scritto sul muro del bagno. Che cosa significa? Verrà il giorno... In cui non saremo più schiavi. Niente più minacce. Niente più umiliazioni. Saremo noi... Saremo noi i padroni. La scultura nel bagno. L'hai fatta tu, vero? Che cosa rappresenta? È un'offerta. Un'offerta per essere salvato. La scultura era un'offerta. Ma un'offerta per chi? R.A. 9. Solo R.A. 9 può salvarci. R.A. 9. Chi è R.A. 9? Perché nascondersi in soffitta? Invece di scappare via? Non sapevo cosa fare. Per la prima volta non c'era nessuno lì a dirmi... Avevo paura. E mi sono nascosto. Quando hai iniziato a provare emozioni? Prima mi picchiava e io non ho mai detto niente. Ma un giorno ho capito che non era... Giusto. Ho provato... Rabbia. Odio. E ho capito che cosa dovevo fare. Ho finito. Chris, prendilo. Va bene, andiamo. Lasciatemi. Non toccatemi. Che cazzo fai? Meglio non toccarlo. Si autodistruggerà se minacciato. Tu stanna fuori, ok? Nessun androide mi dice cosa devo fare. Voi non capite. Se si autodistrugge non otterremo niente. Ho detto di chiudere quella cazzo di bocca. Chris, sposti questo stronzo o cosa? Ci sto provando. Non posso permetterlo. Non posso permetterlo. Lasciatelo, ora! Ti ho avvisato, brutto stronzo. Adesso basta. Fatti gli affari tuoi, Hank. Ho detto. Adesso basta. Cazzo. Stavolta non la passerai liscia. Cazzo. Andrà tutto bene. È finita. Nessuno ti farà del male. Per favore, non toccatela. Lasciate che vi segua fuori e non ci saranno problemi. La verità è dentro. Grazie per aver scelto di tuoi da passi. Ok. Fine corsa. Fine della corsa? Sì, dovete scendere. Svegliati. Dobbiamo andare. Santa, non sappiamo dove andare. Lei è stanca e piove addirotto. Possiamo restare ancora? Questo autobus torna al deposito. Non posso aiutarti. Non posso aiutarti. Andrà tutto bene. Troveremo dove dormire. Vieni, Alice. Muoviamoci. Svegliati. Svegliati. Grazie a tutti. 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 Avrebbe dei soldi per pagarci una stanza. Oh, cazzo. Un androidi a cattone. Questa è bella. Senti, questo è un discount, non l'esercito della salvezza, ok? È meglio che tu vada se non compri nulla. I visitatori di tutte le età potranno ammirare le meraviglie del mondo naturale. E' un'esercito. 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 Mi serve il tuo aiuto. Vedi quelle lattine? Vai là e rovesciale tutte. Rovesciarle? Perché? Ti prego. Alice, fidati. Stai bene? Ti sei fatta male? Non ti preoccupare. È solo qualche lattina. Fanno rumore, ma è tutto ok. Su, andiamo. Mi hai usato per rubare i soldi. Come hai potuto? Mi fidavo di te. Servivano i soldi. Ho dovuto farlo, Alice. Ho av Ridge, comfortami, but theoretically… qui quarter v einen, dios棚, rispida Mittella, osages d'èc, risp생ico. Se Name su diccio vorrei. Ho avril. Ho avrilained. Ho avril Robertson. Ho avril Heathenia sindne. Ho avril della pire. Ho avril. Ho donnero. Ho avril into la potta lìa. Fa caldo qui, starei subito meglio Quei vestiti non sono nostri Ci servono, Alice Ti serve qualcosa di caldo e io devo togliermi l'uniforme Questo è rubare, non possiamo farlo Mi dispiace, Alice, ma non abbiamo scelta A presto Grazie. 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 Salve. Salve. Vorrei una stanza. Fanno 40 dollari. Anticipati. Datemi il nome e indirizzo. Posso vedere la patente? Non ce l'ho con me. La prego, la bimba è stanca. Nessun problema. Ci penseremo domani. Buonanotte. Buonanotte. Vieni, Alice. Dici che ti ha creduto? Non lo so, Alice. Ma so che stanotte starai al caldo. Non lo so. No. Come so, Alice. Mi... 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 Vieni, il cappotto. È meglio se ci cambiamo. Sei tutta fradice. Li stendo in bagno ad asciugare. Perchè non mi voleva bene? Perchè era sempre arrabbiato con me? Volevo solo vivere come le altre bambine. Forse ho sbagliato qualcosa. Non era abbastanza brava. Ecco perché era così arrabbiato. Volevo che fossimo una famiglia. Volevo che mi volesse bene. Non potevamo essere felici? Non lo so. Non mi lascerai mai, vero? Prometti di stare con me. Te lo prometto. Staremo insieme per sempre? Per sempre. Per sempre. Adesso dormi. Ora spengo la luce, ok? Buonanotte, Elis. C'è luce. C'è luce. Grazie a tutti. 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 Dove stai andando? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.